Un cordiale benvenuto da Rosanna Astengo a questo primo appuntamento con Capodimonte si racconta. 12 puntate di un'ora per veicolare attraverso il web tutte le notizie riguardanti il museo ed il bosco di Capodimonte. E già on air Radio Capodimonte, primo progetto del genere in Italia e in Europa, presentato questa mattina dal direttore del museo Silvain Belanger. La radio di Capodimonte racconterà tutta la storia di Capodimonte, racconterà la storia delle pitture, la storia del nostro lavoro, racconterà le meraviglie di Capodimonte. La radio sarà una voce del museo, quando ci sarà una mostra, quando ci sarà un restauro, quando ci sarà un acquisto, quando ci sarà un cambiamento, qualche sia, si racconterà. Si racconterà come arrivare a Capodimonte, si racconterà come grande Capodimonte, che Capodimonte è il più grande museo d'Italia, 124 gallerie, è enorme, è gigantesco. E quando si parla di gallerie siamo a Napoli e Napoli non ha il senso della misura. Frutto di un accordo tra museo e università sull'Orsola Benincasa, Radio Capodimonte sarà curata dagli allievi del Master in Radiofonia dell'Ateneo presieduto da Lucio D'Alessandro. Io penso che gli oggetti di questa storia possano in qualche modo parlare alle persone, possano raccontare la loro storia, possono sussurrarla e anche creare una cultura più ampia e l'opportunità per venire poi successivamente a visitare. Credo che sarà una cosa bella. Tra gli ideatori dell'iniziativa la Campania Music Commission, che ha messo a disposizione una borsa di studio di 1000 euro per il miglior format radiofonico. Intervenuto il presidente della Campania Music Commission, Ferdinando Tozzi.